Si è spenta a soli 20 anni colpita da una terribile malattia, Giussi Cozza, residente ad Agrate. La giovane lavorava come estetista in un negozio del centro commerciale Kennedy di Brugherio. Giussi era stata ricoverata il 3 gennaio all'ospedale di Vimercate con febbre molto alta. La giovane è stata colpita dalla sindrome epilettica da infezione febbrile. Si tratta di un'encefalopatia epilettica acuta potenzialmente fatale, ad esordio esplosivo che si manifesta nei bambini e negli adolescenti, in precedenza in buona salute, in concomitanza con uno stato febbrile, non specifico.